Applausi Hanno dilapidato un patrimonio aziendale Io ho firmato davanti alle organizzazioni sindacali Non solo il pagamento immediato con data odierna dello stipendio di agosto Non solo l'impegno a pagare settembre Non solo a destinare una parte delle risorse alla ripresa dell'attività A comprare il gasolio Perché quello che vi chiedo è datemi una mano a fare riprendere l'azienda Io ho firmato anche la conferma sino al 30 dicembre Nell'affalto con la città metropolitana Che sarà rinnovata successivamente di tre anni Naturalmente vi chiedo di aiutarvi a eliminare Quei costi incredibili tipo subaffalti ed altro Era una vergogna Una vergogna I superminimi di migliaia di euro E tutte le cose che non devono funzionare Insieme ho preso l'impegno di vedermi sistematicamente con le organizzazioni sindacali Per un piano industriale che sarà condiviso dai lavoratori Qualche anno fa io ho salvato la multiservizi Adesso sono felice di salvare la pubblica di servizio